e ciao a tutti ragazzi benvenuti questo è il nostro nostro nuovissimo video stavo dicendo io la intro fai schifo non mi interessa si raga oggi è un po diverso un po diverso perché è anche un po strano perché oggi sto giocando insieme a un mio amico tra virgolette anche youtuber come ha detto anche oggi faremo un video insieme dove lui metterà posteri al video che farà lui sul suo account youtube vabbè e lui sul suo però voi dovrete guardare entrambi se non capirete iniziamo a giocare direi sì ovviamente questo video faremo solo delle partite insieme video si chiamerà gioco ma chi frega come si chiama se l'hanno iniziato cioè spiegami che senso ha non ho capito dobbiamo giocare vicini sennò non si succede a me ragazzi comunque questo video è un po strano perché questo video è un po strano perché siamo in due e stiamo parlando tutte e due tipo io parlo io parlo ma parlo anche per gli iscritti parlo anche per gli iscritti di marcello è per questo che è un po strano iscritti si sono tutti i miei famigliari te credo è questo ma che come mi ha fatto la tua mappa perché ce l'hai così perché perché non prende bene perché vai a prendere questo ma tu ce l'hai che ti illumina le feste si vabbè sì sì lo so è una connessione che non mi parla comunque stavamo dicendo che ti potenze se hai fatto io e il fuego come sempre ma era più forte l'altra mi fa correre di più dopo che non è vero quella quella la mia iniziale la mia quella vabbè quella che mi piace di più attenta quella baby lo so l'ho vista attenta quello mi è arrivato un po' 2 2 1 ci credo come ho fatto a rinascere un po' siiii ok parliamo anche di questo la vita extra io non pensavo di vita proprio una vita extra Per tutti quelli che hanno vista extra ragazzi 8 bit Si è troppo Non so neanche come ho fatto Devi scappare per favore scappa Lo sto facendo vabbè Quarti ragazzi Terzi No meglio Io cambio però la riga Ragazzi 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 Se ultimamente mi state vedendo Usare i miei brawler con il grado più basso E perché voglio fare tante coppe Voglio fare più coppe E questo non potete capire ragazzi Ma è tipo il decimo video Che stiamo cercando di fare Insieme oggi Perché Perché A lui si spegneva sempre Il tablet Si spegneva Siamo in Italia Sempre il tablet E quindi non riuscivamo a completare il video Quindi dobbiamo sempre iniziarlo Oddio Mi sono trovato un 8 bit Accanto scappa 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 8 bit è immortale ormai No ma mia Che Vabbè In questo momento L'ho avrò L'ho avrò Vabbè Però è immortale 8 bit 8 bit è immortale 8 bit è immortale La sua potenza stella è funziona La sua potenza stella è funziona Fai una volta Ma è immortale Oh grazie Non prendo quello Non è vero Non prendo quello Ok 8 bit è immortale Ragazzi 8 bit è immortale Sta zitto Comunque come avrete rotato ragazzi E Marcello mi ha detto anche di non dirlo Ma io lo dirò lo stesso Ho messo la intro Finalmente Io ho cambiato anche app per le registrazioni Indovinate Indovinate che mi avete che scappa O chi mi ha detto Come mettere l'intro Questo qui qui accanto A me Marcello 4,3,2,1 No Ma mi sembra ovvio Che domande sono Mandali lì Mandali lì Dove l'ho messo Mandali dove l'ho messo Dai ragazzi Secondi Secondi Che brutta posizione Secondi Si crede che avvicinò il telefono Sennò non si sente Comunque Comunque Vi devo far vedere Vi devo far rotare Vi ricordate quella cassa enorme Che avevo guadagnato Che avevo guadagnato qui sotto Per sbaglio l'ho cliccata Per sbaglio Non l'ho fatta apposta Oggi mi sono riuscito a portare BB finalmente al grado 20 Ma tu hai almeno un brawler Al grado 21 Io ce l'ho al 23 Ah Quante coppie servono? 600 Ah beh ragazzi Posso usare Posso usare Posso giocare col tuo Voglio provare il primo Tieni Ragazzi stiamo facendo cambio Ok Ragazzi stiamo facendo cambi Non usare il corvo Usa quelli che stanno Più bassi No figli davvero Non perdo E comunque ragazzi Non corvo però per favore Sì Non perdo Sennò scende sotto il grado Non perdo Scende sotto il grado 23 Comunque ragazzi Martino lo puoi tenere un attimo così Perché lo muovi così? Puoi tenere un attimo così Devo far sentire una cosa ragazzi Gioca Gioca Avvicinatelo a te Te lo devi avvicinare Te lo devi avvicinare al corpo figli Ecco Ok Perché non posso aiutare il riusci Ecco scusa No No Ok Ok Ho procurato qualche po' Ragazzi Aiuto Aiuto Scappo 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 Aiuto Puoi giocare Concordo No Come si bene ragazzi Aiuto ragazzi Aiuto 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 Sono morto Scappa per favore Scappa Scappa Non pensare Non pensare Lo so Lo so Lo so Lo so Non scappa 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 Bene ragazzi Non scappo Scappa 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 9 10 11 12 12 12 12 io mi devo caricare la ultima questo qui visto che è utile si vede capito di cosa stavamo parlando dell'abilizia stellare no dio non ti preoccupare sono arrivato anche wow tu fai un sacco di danno fai un casino di danno non morirci per favore aiuto cosa ho fatto si è scappato e sei morto ma perché non so meno 0 vabbè ragazzi comunque se non sentite bene le nostre voci è perché lo stiamo usando le cuffie per colpa di uno che io sempre tu sei diverso speciale no 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 ragazzi non ho riuscito a mettere alci ma perché mi so però perché non volevo fare se almeno potevi mettere un un bruller forte per assedio ma io non volevo fare assedio non ho nemmeno guardato che cosa c'era ma tanto io sono fortissimo non ti preoccupare io sono un bomber quanto vuoi scommettere oh ma che fai lì aiutali 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 io rimango qui per prendere la roba eh ma adesso che la rinasce loro stanno lì invece io sono tutti pronto aio che male guarda non viene nemmeno superato non ha preso niente quello è il fuego buona rinasce con loro muori ti devo usare salute ti devo usare salute ti devo usare salute mi devi sprazzare attorno ok così sei no quella lì ci vuole mettere il mortaio che è schifo ma ne ha pure la potenza stellare ma che è schifo Vabbè perchè anche noi siamo tutti stellati Vabbè ai crow Allora possiamo tirare sotto qua No vabbè ci stanno distruggendo Ma io Ah Anch'io Quella penna è troppo fastidiosa Non ho detto che sono scarsissimo Però continuo a morire Non so perchè Abbiamo perso mi devi dare 50 centesima Ma che te ne volevo le dare Questo è l'ultimo robot Allora no io devo andare all'attacco alla mano Vabbè tanto abbiamo perso Ti odio Non mi devi odiare Tu devi odiare Devi odiare te stesso Cambia modalità Ok ragazzi voglio vedere quanto è passato 11 minuti Come 11 minuti Poi con le intro ancora di più Vabbè qualche secondo in più Vabbè direi di skipare qualche parte Tipo questa Ragazzi io direi di farti un'ultimo assedio No 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 io non gioco Io non gioco Io non gioco Esco Vabbè no 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 Che hai fatto perchè L'ultima partita E poi basta No in sopra i venti No si in sopra i venti Ultima partita Poi basta Allora io mi metto Mi metto Chi mi mette guardate Pa 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 Filia Smetti di fare Puzzette finte Va di smettere Perché te ne fai quelle vere Ragazzi come faccio ad avere un amico del genere Questa bulla, questa bulla Anche te? Sì Eh, vai bene Ok, sono vivo Non sappiamo come ragazzi, ma è vivo Ulti Hai detto ti sei caricata la ulti? Allora, ho detto ti sei caricata la ulti Bravo, almeno hai una luce Eh, te? Anch'io E usala No, perché la mia è in questo momento Vabbè, ma com'è che devi andare Perché sono bravissimo, più muore bravo Lo sai, quel vecchio Vecchio coso che Dagli errori Dagli errori si impara Vabbè raga, direi Per questo video è tutto Noi ci vediamo domani O tra poco Con un nuovissimo video Aspettate, aspettate Non riesco a stoppare Ma sei scemo? Ciao a tutti E ragazzi, noi invece siamo ancora qui Allora, vi devo ricordare di iscrivervi Attivare la campanellina Mettere mi piace E ci vediamo nel prossimo video Ma no, di iscriversi anche al mio Iscrivetevi anche al mio Marcello Cristiani si chiama Tra un po' la ferma da marchi Comunque, iscrivetevi al mio canale Su, muoviti E non riesco a più ricliccare Iscrivetevi al mio canale Mettete mi piace a questo video E a tutti gli altri E ci vediamo nel prossimo video Mamma mia, quanto la fai Ciao Quanto la fai lui Tutti Fili, non lo sai fare Ragazzi Non ci stop Vabbè Tai